ciao ragazzi oggi un inizio di video un pochino strano oggi andiamo a creare una nuova scrivania per la nonna titina nella sua stanza andiamo a vedere innanzitutto come si fa e qual è ecco qui allora ho acquistato questa scrivania con sedia e cuscini adesso come al solito dovremo spacchettare e costruire tutto quanto qui dentro vediamo subito cosa c'è io l'ho già aperto perché ero un pochino curiosa qui dentro abbiamo la sedia ecco che cosa contiene dunque contiene le famose solite viti con tutto tutti gli attrezzi necessari queste quattro gambe di legno questo meraviglioso questa meravigliosa stella che va piazzata praticamente nel centro della sedia chiaramente poi la sedia e il cuscino che ho pagato a parte ragazzi non è incluso all'interno del set scusatemi non è incluso all'interno della sedia allora Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.